Corner di Bonomi, con il suo cross, l'arri di rigore, colpo di testa, arriva il gol di Clinton, Nsiala-Mackengau, 1-0 per il Milan, ancora una volta Nsiala, colpisce, dopo essere riuscita ad andare in gol contro la Sampdoria, segna il Paris Saint-Germain. Sala mette questo pallone in mezzo, Camarda! Camarda! Che gol ha fatto Francesco Camarda, 2-0 per il Milan, una rovesciata folle, folle di Camarda, folle! Un gol clamoroso di Francesco Camarda, su un pallone messo all'indietro da Sala, ma cosa si è inventato? Francesco Camarda! Adonis, occhio all'inserimento in area di rigore di Fandra, bravissimo a chiudere Chimenez, poi Zag in area, Zag! E arriva il gol, e arriva il gol del Paris, con il tappin vincente sul secondo pallo di Naga, Kisanga, Scudella dal lato opposto, dove c'è Mbappé, che la mette dentro, basta! Arriva il pari, arriva il pari del Paris Saint-Germain, ha segnato Adonis, 2-2. Può provare a mettere in mezzo questa sfera, morbida, con l'uscita di Mouquet, ma la spina, stop e tiro, deve azione a gol! Del 3-2! La vinte ancora il Milan, con Diego Sia, che trova il gol in mischia! Ed è giusto così, per quello che si è visto, in questi 93 minuti e mezzo, sino a questo momento, la vince in maniera sporca, ma la vince forse in maniera giusta il Milan! Da parte mia, da parte di Simone Nobilini, un grazie per essere stati in nostra compagnia!